che grava su tutta la nostra economia oltre che sulle famiglie italiane. Il costo è normalmente del 30-40%, in certi casi addirittura il 50% rispetto al costo che le famiglie e le aziende francesi pagano per la decisione francese di aver realizzato mi sembra 60 centrali nucleari nella più totale sicurezza dei cittadini francesi. In Italia l'accadimento giapponese, a seguito anche dei sondaggi che noi abitualmente facciamo sull'opinione pubblica, ha spaventato ulteriormente i nostri cittadini. Se fossimo andati oggi a quel referendum, il nucleare in Italia non sarebbe stato possibile per molti anni a venire. Il governo quindi responsabilmente ha ritenuto di introdurre questa moratoria per far sì che magari dopo un anno, dopo due anni, si possa ritornare l'energia nucleare. Come? Le centrali francesi sono così sicure da essere addirittura resistenti a un attacco atomico. E noi con la Francia abbiamo stipulato molti contratti, la nostra Enel con l'azienda francese, contratti che non vengono abrogati.